Mister Delfino del Borgo Incrociati, un commento sulla partita di oggi? È stata la bella partita, vittoria meritata, abbiamo giocato veramente da Borgo, finalmente dovremo raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi all'inizio e speriamo che vada tutto bene. Domenica con Lido Square, una partita molto importante? È importantissima, domenica potrebbe essere la svolta del nostro campionato, speriamo che vada tutto bene, noi siamo fiduciosi, sempre fiduciosi. Sono stati infatti a dicembre degli innesti importanti nella squadra? Sì, l'innesto di Ba, l'innesto di Saito, di Moreno, ragazzi che sanno giocare veramente a calcio. Sono tre giocatori fondamentali per il nostro futuro. Grazie Mister Delfino. Grazie a lei.